L'iniziativa di Venerdì nasce da un impegno molto bello che ci siamo presi un po' come anche come diocesi, nasce proprio da un desiderio del Vescovo di poter rilanciare una associazione che è sempre stata importante a livello ecclesiale, che è appunto Lucid, che è l'Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti. Perché pensiamo che in questo momento così di difficoltà, soprattutto anche economica, sia importante riscoprire comunque la bellezza e l'impegno di impegnarsi, appunto di lavorare, di fare impresa. E credo che noi che apparteniamo appunto a una grande tradizione come quella cristiana, con tutta la dottrina sociale della Chiesa, abbiamo veramente un bagaglio di pensiero, ma anche di possibilità per poter veramente uscire da questo momento di difficoltà. Ed è per quello che così vogliamo presentare questo libro, che è stato scritto l'anno scorso appunto da parte del Lucid, intitolato Strategia di impresa per il bene comune, dove viene presentato un po' qual è il pensiero che ci sta dietro l'idea di lavoro, di impresa, di impegnarsi, di costruire una società più giusta e più solidale. E poi vedere anche dei casi concreti, quindi ci sarà una prima parte in cui cercheremo di riflettere su che cos'è l'idea di bene comune, perché in fondo dobbiamo giocare un po' anche su questa, capire meglio che cosa vogliamo intendere quando parliamo di questo termine. E poi presenteremo anche due casi molto belli, molto importanti, appunto di imprenditori che legati a una tradizione cristiana creano lavoro, creano economia, rispettando comunque e mettendo sempre al centro la persona. Quindi sarà una serata molto bella, molto importante, verranno coinvolte anche altre sezioni UCID, da Ravenna, Faenza, Ancona. E in questa serata, dopo appunto una riflessione iniziale, i due casi che presenteremo sono molto importanti, sono due imprenditori, uno del nord dell'Italia e uno del sud, dove il primo, Angelo Ferro, appunto nelle zone di Padova, ha costruito una cittadella, chiamiamola così, della solidarietà, dove riesce a far lavorare veramente centinaia, se non migliaia di persone, partendo da una piccola idea molto interessante, che l'anziano non è un problema ma è una risorsa, perché ha due cose che a noi mancano oggi, il tempo e l'esperienza. Ecco, partendo da questa piccola idea ha creato veramente una cittadella in cui i giovani, anziani, adulti vivono, lavorano e appunto cercano di portare avanti anche un certo tipo di discorso. Il secondo personaggio invece è Vincenzo Linarello, che è colui che gestisce il consorzio Goel in Calabria, dove appunto è nato in collaborazione con Monsignor Brigantini, che a quei tempi era appunto vescovo, e loro appunto fanno vedere, mostrano come concretamente, seguendo una strada di totale legalità, ecco, riescono a creare lavoro, ricchezza, occupazione in un territorio dove lui molto serenamente dice il mio competitor è l'andrangheta, quindi non è proprio una cosa molto molto semplice. Ecco, questa serata sarà appunto, vuole essere un inizio, ecco, un inizio in cui poi durante l'anno ci saranno altri incontri, altri percorsi, ecco, per comunque riportare al centro delle nostre attività ciò che veramente conta, che è appunto la persona, ecco. Parleremo di responsabilità sociale dell'impresa, parleremo di bene comune, di etica, però ecco, poi con un grande, una grande attenzione che è quella appunto poi di scendere in concreto, ecco, mostrare anche come concretamente possiamo realizzare questo tipo di lavoro.